La CGL di Tenamo torna a denunciare la drammatica situazione della mancanza di parcheggio all'ospedale Mazzini, in particolar modo per alcune fasce di lavoratori che ogni giorno sono costretti a delle lunghe cacce al tesoro per trovare un posto. Una condizione anche aggravata dal fatto che ad oggi non è stato ancora completato il parcheggio multipiano situato al ridosso dell'ospedale. Per questo motivo i sindacati chiedono un incontro urgente ad Asle e Comune di Tenamo per trovare una soluzione a stretto giro che permetta quantomeno di alleggerire l'annosa condizione. Avevamo chiesto un incontro alla Asle già ad ottobre del 2018 e non c'è stata data nessuna risposta e adesso la situazione è peggiorata perché c'è questo mega parcheggione che non è stato mai ultimato che inoltre ha un problema perché la convenzione riguarda solo il personale sanitario e dimentica le decine di centinaia di lavoratori che fanno servizi ausiliari di sicurezza, mense, le pulizie, oltre alla manutenzione dei servizi elettrici e quant'altro. Per questi lavoratori non c'è convenzione, ma poi c'è un problema di numero di parcheggi perché i lavoratori devono andare al lavoro anche un'ora prima per trovare parcheggio. Sta diventando un problema sempre più sentito da parte dei lavoratori ed è inaccettabile che un servizio pubblico, che tra l'altro è quello della sanità, che è quindi un servizio pubblico essenziale, non tenga conto della vivibilità dell'ambiente di lavoro perché l'ambiente di lavoro è vivibile anche per questi aspetti. Quindi rispetto a questo noi chiediamo che la ASL e il Comune di Teramo ci diano un incontro, ci si apra un confronto su questo tema per risolverlo perché è un problema che noi capiamo che sentono poco perché sembra poco importante. In realtà dai lavoratori è molto sentito e può essere risolto, basta solo la buona volontà delle persone che hanno la capacità e il dovere di risolverlo.